Tirate fuori i vecchi cellulari! Sono quelli della 3, sono così pazzi da darvi 150 euro di supervalutazione! E tu che hai preso? Avevo un cellulare scrauso, mi hanno dato 150 euro e un Galaxy S4 Mini. Finalmente ho cambiato cellulare e sono passata allo smartphone. 150 euro di supervalutazione per il tuo vecchio cellulare se passi a 3 e hai i migliori Samsung Galaxy a partire da 10,50 euro al mese con 2 giga, anche senza tassa. Teresa, siamo fantastici! Non ti supervalutare! 3